italiani benvenuti in un nuovo video di iron nerd 96 anche a tarda serata vi vado a parlare di una notizia che riguarda sempre il nostro amato marvel cinematic universe perché poco fa è ufficiale la stagione di shulk non si farà quindi cosa dire scelta saggia in campo ma perché mi fa che finalmente ha capito che la prima serie faceva un poco ridere e diciamo che la notizia mi fa piacere come ho detto anche nella live di oggi vi trovate qui sul canale ma anche come gli altri video che sto facendo uscire la marvel quest'anno farà uscire solamente pochi prodotti al cinema ovvero la serie animata di spaderman la serie animata di x-men ma solo un film perché il film che darà diciamo questa fase è proprio dead bull 3 che uscirà proprio nel periodo di luglio si vocifera che l'11 febbraio uscirà un bel thriller goloso quindi lo vedremo insieme lo analizzeremo insieme e chissà chissà a quanti iscritti arriveremo quando dead bull 3 approderà al cinema e mi auguro che arriveremo in una cifra veramente considerevole siamo quasi quasi lo voglio dire ragazzi ma manca veramente poco manca veramente poco per arrivare alla soglia dei 4 mila iscritti non so più cosa dirvi non so come ringraziarvi ma la notizia che questa cosa questa notizia che la marvel ha cioè non vuole far uscire la seconda stagione secondo me è una scelta molto saggia come direte perché perché purtroppo la prima serie non è andata come tutti si rispettavano diciamo che il rammatico è troppo perché il personaggio di shulk come il personaggio di hulk è un personaggio dove puoi fare delle trame anche come nei fumetti avvincenti il problema è stato che il shulk secondo me la maslani attrice che sinceramente apprezzato però devo dire che la serie fa veramente non è orribile ma veramente la cgi gli effetti sono qualche cosa che a me non mi sono piaciuti e devo dire che dispiace perché vi ripeto già un col hanno reso praticamente imbarazzante dopo avengers quindi anche shulk è andata in quella direzione mi dispiace anche per abominio perché abominio come voi sapete è un personaggio che nell'ingredibile non è che l'ho apprezzato tanto non è che mi è piaciuto però comunque è un personaggio che mi aveva soddisfatto per quello per quello che doveva fare che doveva fare all'interno del film perché all'interno del film comunque era un personaggio era un personaggio che poteva dire la sua shulk purtroppo è una serie come vedessi che è iniziata anche bene perché comunque è una serie thriller è una serie comunque di spionaggio appunto vedevamo anche la comparsa di dar devil però il fatto che quest'anno usciranno solamente due prodotti la dice lunga su come la marvel lavorerà nel futuro prossimo del marvel cinematic universe devo dire che la scelta di non far uscire niente ma di far uscire solamente dead bull che uscirà appunto nel periodo di luglio a me non dispiace perché poi ridicolizzare dei personaggi che abbiamo amati comunque nel contesto del marvel cinematic universe a me non va preferisco che loro si prendono del tempo materiale per fare dei prodotti più seri per fare dei prodotti che hanno una trama convincente ma che hanno una trama molto significativa perché come ho detto anche prima la serie di 5 non è male inizia nella prima parte bene nella seconda parte diciamo si perde per poi chiudere un veramente il finale con lei che va dall'artificienza artificiale di Kevin Feige che non vuole finire così cioè come era stabilito ma in un altro modo a me ha fatto ridere la cosa dispiace dispiace perché vi ripeto è una serie che secondo me si poteva fare molto molto di più ma come ho detto anche le altre volte come ho detto ancora la fase 4 è stata una fase sperimentale mi auguro che questi sperimenti la marvel li faccia più siano finiti perché appunto essendo finiti dopo ci troviamo con dei personaggi che nessuno vuole che dei personaggi che nessuno a cui nessuno piacciono e dei personaggi che fanno acqua da tutte le parti le parti diciamo che la fase 4 si doveva aprire in un modo diverso perché i set marbles sia and man 2 dovevano portare un nuovo appiglio a questo universo ma sappiamo che kang è finito come finito shulk è andata ma cioè non è che è andata male è una serie che non si prende ma su serie a me non è proprio il night stessa cosa l'unico non ci sono i progetti che io serverei sono loghi 2 e guardiani della della classe però il fatto di non fare shulk sinceramente a me mi convince mi convince perché non voglio più vedere il nostro bruce banner ridicolizzato ecco la tutina che aveva in avengers in the game perché il personaggio nei fumetti merita tanto un personaggio di spessore in casa marvel e se tu me lo va a trattare in questo modo secondo me non sono nato una rizzi il personaggio ma lo fa diventare veramente ridicolo come è apparso diciamo nei film dopo avengers perché in avengers quello che avevo apprezzato di lui che nel momento nel momento in cui c'era da picchiare da sfatare era il look che tutti quanti avevamo amato come anche l'incredibile look poi nel momento in cui dopo and the game si è messo a fare smart book io l'ho già dopo tutto messi sono naturalmente o anche giustamente altri fango pop nella mia collezione quindi di hulk per un personaggio a me non è che piace diciamo che guardo con un progetto che la marvel forse ci lavorerà forse uscirà non lo so mi auguro di sì perché anche in shulk vediamo il figlio scar che praticamente viene presentato per per unirsi secondo me a young avengers questa qui secondo me è una mossa che premerà i marvel studios come la scena post credit di the marvels che va a collegare la nostra cat bishop la nostra piccola occhi di falco al resto della truppa the young avengers diciamo che la notizia è uscita poco fa quindi ho detto voi ci lasciate un video sopra perché secondo me il fatto che shulk non venga fatta la seconda stagione farà discutere perché c'è gente che la serie è piaciuta quindi diciamo che il mio come sempre detto qui sul canale negli altri video è sempre un parere se c'è oggi è soggettivo nel senso che voi dovete sempre vedere tutto non stare a sentire a me io do un giudizio sul tutto sul futuro e su cosa i personaggi possono dire all'interno di un universo condiviso che nella fase 4 ha deluso non solo voi ma ha deluso moltissimo anche me però non ci voglio non riesco a volerci male perché mi ha cresciuto mi sta continuando a crescere e grazie alla marvel io ho ripreso anche mi sono tolte diverse soddisfazioni personali e anche un senso di riparsa di confronti di alcune diciamo persone che ritenevano che queste cose sarebbero fallite che sarebbe la marvel non faceva più film che prendere la messa detto ma la marvel dopo la fase 4 finirà ragazzi tranquilli non finirà si migliorerà e che infatti finalmente l'ha capito a me fa piacere di questa cosa e cosa dire cioè pensate se non c'è la marvel al cinema non ci sono argomenti anche con i colleghi da trattare questo per dirvi che questo universo anche se un po' ci accade anche se con delle incongruenze narrative tra le tutte le fasi secondo me anche nella nella maggior serie ha lasciato comunque qualcosa a noi fan e quindi io ci sarò sempre grato perché ricordiamoci che endgame è soltanto il secondo ingasso dopo avatar dopo appunto avatar e titanic quindi voglio dire qualcosa di buono questi signori l'hanno fatto noi dobbiamo sempre secondo me essere grati lo so perché voi dite vabbè però arrivato ad un certo punto con multiverso loro potevano esplorare diverse linee narrative differente l'hanno fatto il problema che secondo me in diversi prodotti si è detto una cosa in altri se ne sono detto altre cose e quindi poi quando li sono andate ad unire sono usciti un po' diciamo fuori le righe e la cosa a me non è che mi ha fatto piacere però vi ripeto comunque è una notizia che dal lato non sono contento dal lato un po' mi distrittisce perché comunque vedere shulk interagire con bruce barner interagire anche con dar devil e questo secondo me con la cancellazione di shulk nella seconda stagione in serie dubbi che secondo me la mass line in dar devil born again non apparirà perché se tu mi vai a cancellare la seconda stagione significa che la prima tutto quello che è successo è rimasta lì è diventato un marvel spotlight come appunto ecco però vedremo cosa nel futuro ci darà anche perché in dare il born again ritorna anche i due co protagonisti della serie netflix anche il fatto che hanno fatto diventare canonico le serie di netflix io l'ho apprezzata perché secondo me quelle serie andavano bene dove stavano e non ce le vedo nel contesto del nuovo universo perché sono serie totalmente differente sono serie che hanno un tono più dark hanno un tono più cubo e marvel cinematic universe non è messo non è mai stato così però vedremo anche su questa cosa qui se nel futuro verranno premiati ovvero la gente non libera non libera premerà quindi vedremo cosa questi cosa death pool e cosa spiderman x men serie animate ci dirà ditemi la vostra se siete contenti che scioccoli non si farà la seconda stagione se vi è piaciuta la prima stagione se amate il personaggio della maslani cosa vorreste in un futuro sul personaggio di hulk e cosa la marvel può fare per risollevarsi come ho detto sempre come ho detto anche negli altri video io domani arriverà un pacco un bel pacco amazon lo andiamo ad aprire insieme perché domani arriverà un personaggio di the falcon e di vinte soldi e lo prendiamo insieme faremo un bel video ve lo mostrerò per poi giustamente richiuderlo e mettono uno spazio che ormai lo spazio è finito perché in casa di ironnet 96 trovare lo spazio è veramente un'impresa mega galattica che solo toni il suo ideatore può fare ma ci riusciremo detto ciò concludo facendovi ho appunto vedere questa bellissima pallina della nostra ben amata amala che domani sera c'è la supercoppa speriamo bene e ragazzi noi ci vediamo in prossimi video prossimi live dai ragazzi 4.000 sono lì e appena arrivati a questo numero festeggeremo insieme come le altre volte ditemi la vostra su shiulk siete fantastici vi voglio bene 3.000 da ironnet 96 anche da non covo che ho trovato la source che ho caricato già è tutto ciao ragazzi italiani